Bene, bene, buongiorno a tutti, siamo nel Dipartimento Nazionale della UIL Scuola, abbiamo Angelo Luongo che è responsabile. Buongiorno a tutti. Luongo, lei si occupa di scuole all'estero da diversi anni, possiamo dire da decenni. Quello dell'estero è un contesto che nelle scuole è sempre comunque molto ambito. Negli ultimi anni è stato ridimensionato dal governo, però vi sono ancora diverse scuole all'estero, quante ne esistono in questo momento? Diciamo che le scuole statali italiane all'estero in questo momento sono sei, ma ci sono oltre un centinaio di scuole paritarie distribuite in tutto il mondo che rappresentano la vetrina della nostra scuola italiana. Noi siamo un paese storicamente di grande migrazione e per questo motivo queste scuole rappresentano un pezzo della storia del nostro paese che negli ultimi due secoli ha potuto assistere e dare un contributo molto importante ai cittadini italiani residenti all'estero. Comprensivamente le scuole statali, come dicevamo, sono sei, due Madrid e Barcellona in Spagna, una scuola, parliamo di istituti comprensivi statali, dove ci sono tutti i segmenti dalla scuola dell'infanzia al liceo. Quindi abbiamo detto, oltre le due scuole in Spagna e quella in Grecia, Atene, la scuola italiana di Istanbul, la scuola italiana di Parigi e abbiamo poi una grande scuola in Africa, da Disabeba, e un'altra scuola sempre in Africa, in Eritrea, da Smara, che al momento è stata chiusa, rimane chiusa per un periodo speriamo non lungo di tempo e ci auguriamo che anche questa grande scuola statale possa riaprire nei prossimi anni. Una parte degli istituti sono paritari? A parte queste scuole di cui stavamo parlando, ci sono distribuite in tutto il mondo oltre un centinaio di scuole italiane legalmente riconosciute, paritarie, quindi con un riconoscimento che prevede anche il rilascio dei titoli di studio e queste scuole sono presenti nell'America Latina, negli Stati Uniti, nell'America del Nord, sono presenti in Europa, sono distribuite laddove abbiamo delle grandi comunità di italiani che si sono formate nel corso dei secoli in base ai flussi migratori che sono stati molto alti come è noto sia nel corso della fine dell'Ottocento, nella prima metà del Novecento e tuttora registriamo dei flussi migratori in Europa, soprattutto per motivi di lavoro, che richiedono da parte dello Stato italiano, da parte del Governo, da parte del Parlamento, un'attenzione politica e anche un supporto scolastico e formativo ai figli e alle famiglie di questi nostri lavoratori. Lungo, cosa deve fare un docente che vuole recarsi all'estero ad insegnare? Intanto purtroppo il numero dei docenti, il personale scolastico, qui stiamo parlando naturalmente di dirigenti scolastici, personale ATA, amministrativo e personale docente. Complessivamente l'attuale norma purtroppo prevede un contingente al massimo di 674 unità, oltre questo contingente c'è un contingente nelle scuole europee, complessivamente parliamo di circa 800 unità di personale. Si tratta comunque di docenti e di personali, comunque scolastico di ruolo, che deve avere almeno per poter partecipare ai concorsi indetti dal Ministero degli Esteri almeno 4 anni di ruolo effettivo, di servizio di ruolo effettivo, conoscere una o più lingue straniere con il possesso di titoli linguistici di livello almeno B2, parliamo delle 4 lingue, sono inglese, francese, tedesco e spagnolo, e successivamente con questi requisiti si partecipa a un concorso per titoli ed esami, cioè un esame orale, un colloquio, che viene realizzato dalle varie commissioni previste da questi bandi di concorso indetti dal Ministero degli Affari Esteri e si entra successivamente in una graduatoria che nel corso degli anni scolastici successivi fornisce la copertura dei posti che si rendono vacanti anno per anno per il rientro del personale che attualmente è in servizio all'estero. Ogni quanti anni il personale in servizio all'estero è obbligato a tornare in Italia? Allora, il mandato all'estero è di sei anni scolastici a decorrere dal momento in cui si viene nominati. Ovviamente si può rientrare in maniera volontaria durante tutto il periodo e secondo appunto i rientri poi questi posti che si rendono vacanti vengono poi coperti dal personale che è nelle specifiche graduatorie. Ripeto, le graduatorie per ogni classe di concorso che è prevista per queste scuole che noi abbiamo all'estero, per i lettorati, per tutte le realtà scolastiche che abbiamo per ogni classe di concorso sono presenti quattro graduatorie per ognuna delle quattro lingue e l'indicazione linguistica è fondamentale perché si viene destinati a un paese, ad una sede estera che appartiene a quella specifica area linguistica indicata nel bando di concorso. Le aree linguistiche sono appunto convenzionalmente dei settori linguistici all'interno delle quali sono collocate tutte le sedi della rete diplomatico consolare del Ministero degli Esteri. Possono presentare domande anche insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria? Sì, certamente abbiamo detto. L'unico problema attualmente, fino a che non ci auguriamo, si riprenda anche a livello legislativo e contrattuale una riforma di queste scuole italiane, non è possibile per il personale non di ruolo, il personale precario, svolgere attività di insegnamento all'estero. Al momento, per il personale non di ruolo, è possibile soltanto avere delle assunzioni a contratto locale nelle scuole statali italiane all'estero, ma si tratta di rapporti lavoro di natura privatistica che nulla hanno a che vedere con l'istituto dei rapporti lavoro a tempo determinato previsto dal nostro contratto. Allora, alcuni docenti vincitori di concorso specifico all'estero lamentano il fatto che poi, pur in presenza di posti vacanti in sede all'estero, non vengono convocati, non vengono nominati. Come mai questo fenomeno? Intanto non credo che si tratti di posti vacanti, perché, appunto, come abbiamo detto, al momento in cui si rendono vacanti la graduatoria viene utilizzata. È evidente che, a seconda delle graduatorie in cui si è inseriti, quindi della classe di concorso, e del numero dei posti previsti dal contingente scolastico all'estero, che abbiamo detto al massimo è di 674 unità, è evidente che, pur essendo in una graduatoria in una posizione privilegiata, se i posti sono talmente pochi, è possibile che lo scorrimento sia così lento da non arrivare poi, nell'arco dei sei anni scolastici di valida della graduatoria, al docente che è collocato in questa graduatoria. Se vogliamo così dare un'indicazione statistica, il numero maggiore di posti sono presenti nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Per quale motivo? Perché per queste funzioni, per queste categorie, è possibile, oltre all'insegnamento nelle scuole, svolgere attività di insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana, a livello di scuola primaria e a livello di scuola media. Questo significa che per queste due categorie, parliamo per la scuola media di docenti di lettere o di docenti di lingua stagniere, ma con il possesso di due esami di italiano nel proprio corso di studi universitari, per queste due categorie c'è una maggiore possibilità di andare all'insegna proprio perché, oltre a lavorare nelle scuole, si può insegnare in questi corsi che sono presenti, soprattutto in Europa, in determinate aree, in particolare quell'area francese e tedesca. Una prova di questo è che in questo momento siamo in attesa, probabilmente tra gennaio e febbraio, di un ulteriore concorso specifico per la scuola primaria e soprattutto per l'area linguistica francese e per la linguistica tedesca. Quindi tutti i nostri colleghi che sono nella scuola primaria e che hanno un titolo almeno di livello B2 riconosciuto e certificato nel quadro comune riferente europeo possono ambire a queste nuove destinazioni, a questi posti che sono ancora vacanti perché le graduatorie si sono esaurite e che saranno messe a disposizione al primo settembre dell'anno prossimo. Ma coloro che sono in graduatoria devono sentirsi, tra virgolette, minacciati dai nuovi arrivati oppure sono al sicuro oppure, non so, le graduatorie vengono rinnovate a pettine? No, le graduatorie di cui stiamo parlando sono esaurite. Quindi i concorsi che saranno svolti riguardano graduatorie esaurite e quindi inevitabilmente bisogna coprire. Quindi non ci sono candidati. In questo caso, ecco questo era l'esempio che volevo fare, i posti attualmente non sono coperti e quindi sono ancora vacanti proprio perché le graduatorie sono esaurite e per questo motivo dal primo settembre 2023 bisognerà coprire questi posti, parliamo di area francese, scuola primaria, soprattutto corsi in cui italiani, qui parliamo del Belgio, della Francia, area tedesca parliamo di Svizzera e Germania, e quindi per questo motivo il Ministro degli Esteri svolgerà nuove selezioni. Facevo l'esempio proprio perché per queste specifiche categorie addirittura dal 2019 ad oggi sono già stati fatti tre concorsi e quello di cui sto parlando è il quarto. Mentre per altre categorie come insegnamento matematica e fisica alle superiori, non so... Le lingue straniere anche alle superiori? Per le lingue straniere c'è purtroppo un elemento di difficoltà perché nelle varie realtà scolastiche non sono utilizzati docenti di ruolo per l'insegnamento di lingue straniere, ma sono utilizzati docenti assunti localmente. Per cui il docente di ruolo di lingua straniera ha la possibilità non tanto di insegnare la sua materia, ma di insegnare come lettore o lettrice di italiano presso le università straniere presenti in tutto il mondo. Ma è un concorso a parte quello del lettore? È un concorso che appartiene a questa procedura e viene fatto insieme a tutte le altre classi di concorso. Cioè, facciamo un esempio, un docente di lingua straniera che insegna inglese, che però ha nel suo corso di studi universitari due esami di lingua e o letteratura italiana, può partecipare oltre per l'insegnamento dell'inglese, per cui i posti sono pochissimi e quindi avrà poche possibilità, anche per insegnare insieme ai docenti di lettere, di materie letterarie, può partecipare anche alla selezione per fare il lettore di italiano. E lì ci sono più possibilità. Lungo, è vero che chi lavora all'estero acquisisce uno stipendio decisamente più alto di quello italiano? Ecco, questo è un aspetto importante, economico, da non sottovalutare. Non si tratta di uno stipendio, perché lo stipendio che si percepisce in Italia si continua a percepire, ma si aggiunge a questo stipendio un assegno di sede, cosiddetto ISE, indennità di servizio all'estero. È un assegno di sede che non ha natura retributiva, anche se in parte costituisce reddito, e che in media, a seconda delle sedi e del grado di disagio della sede estera, perché è calcolata questa somma sulla base di alcuni parametri di disagio della sede, può variare da una forbice di 2.800-3.000 euro al mese anche a 5.000 euro al mese. Parliamo di somme nette? Sì, parliamo di somme nette, naturalmente, tolta la parte che viene soggetta a IRPEF, è naturalmente una media approssimativa di cui io sto parlando, ma che può dare un'idea di quella che poi è la somma compressiva. Naturalmente questo poi dipenderà dalle varie sedi e su questo anche il sindacato è a disposizione per dare tutte le informazioni possibili. Loco, ci sono delle località particolarmente ambite all'estero? Ma, appunto, questo dipende anche dagli obiettivi che si pone il docente, l'assistente amministrativo, il dirigente scolastico che prova questa selezione. È chiaro che la parte economica è maggiore laddove la sede è disagiata. Fare un esempio, se uno insegna nella scuola italiana Addis Abeba percepisce sicuramente molto di più rispetto a una sede come Madrid o Barcellona. Tra l'altro poi il tenore e il costo della vita è diverso, però potrebbe anche darsi che una serie di problemi familiari, personali, di salute, non consigliano il collega a accettare queste disagiate e quindi si rinuncia a un beneficio economico maggiore ma ci si guadagna in qualità della vita e della sede che si mette a disposizione. Un'ultima domanda. Cosa possiamo consigliare a un docente, un'ata o a un dirigente scolastico, un DSGA che vuole recarsi all'estero? Beh, diciamo che intanto deve assolutamente avere delle conoscenze linguistiche, sono una condizione, un requisito di partecipazione. Quindi acquisire dei titoli linguistici di livello almeno B2 se sono di livelli superiori C1 e C2 ancora meglio perché oltre a permettere di partecipare danno anche un punteggio che si aggiunge al punteggio di servizio, al punteggio degli altri titoli e quindi il primo consiglio è quello di avere appunto delle conoscenze linguistiche e soprattutto per chi non è nell'ultima fase della carriera è un'esperienza da consigliare perché è un'esperienza che arricchisce il piano professionale umano e nulla guasta anche da un punto di vista economico dà dei vantaggi e sicuramente è un'esperienza che io consiglierei a tutti i colleghi partendo da certi requisiti professionali che bisogna possedere. Bene, ringraziamo Angelo Luongo responsabile del Dipartimento Estero Will Scuola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti